Buon poveriggio e benvenuti a Prospettive da parte di Matteo Ciofi. Puntata insolita, quella di oggi. Come vedete siamo qui a Toronto in esterna a causa del nostro traslogo nei nuovi uffici. Ma ripartiamo dall'udienza generale di ieri, nella quale il Pontefice ha inaugurato un nuovo ciclo di catechesi relative alla speranza cristiana. Il racconto dal CTV è di Alessandro Di Bussolo. Lasciamoci insegnare la speranza, quella dell'incontro col Signore, con il bambino che ci ridonerà il sorriso e qualunque sia il deserto delle nostre vite diventerà un giardino fiorito, perché la speranza non delude. Lo ha detto con forza Papa Francesco al termine della catechesi dell'udienza generale tenuta in aula Paolo VI davanti a più di 8.000 fedeli, nella quale ha iniziato un nuovo ciclo di riflessioni sul tema della speranza cristiana. Prendendo spunto dall'annuncio di consolazione che il profeta Isaia rivolge al popolo di Israele, il Pontefice ha spiegato che Dio consola inviando consolatori come prima Isaia, poi Giovanni il Battista, che chiedono di preparare la via al Signore, aprendosi ai suoi doni e alla sua salvezza. Al popolo che aveva perso tutto si chiede di tornare a Dio e tornare a sperare sorridere. Quando siamo in difficoltà, ha aggiunto il Papa, non viene il sorriso ed è proprio la speranza che ci insegna a sorridere in quella strada per trovare Dio. Una delle prime cose che accadono alle persone che si staccano da Dio è che sono persone senza sorriso. La vita è spesso un deserto, è difficile camminare dentro della vita, ma se ci affidiamo a Dio può diventare bella e larga come un'autostrada. Basta non perdere mai la speranza, basta continuare a credere, sempre, nonostante tutto. Quando noi ci troviamo davanti a un bambino, forse avremo problemi, tanti problemi lì, tante difficoltà, ma quando ci troviamo davanti a un bambino ci viene da dentro il sorriso, la semplicità, perché ci troviamo davanti alla speranza. Un bambino è una speranza. E così dobbiamo vedere nella vita, in questo cammino, la speranza di trovare Dio, Dio che si è fatto bambino per noi. E ci farà sorridere, ci darà tutto. È stata pubblicata ieri una lunga intervista che il Pontefice ha rilasciato al settimanale cattolico Belga Terzio. In occasione della fine del Giubileo straordinario, il Papa si è soffermato su diversi temi, ricordando come sia meglio uno stato laico che confessionale. Il Santo Padre ha ribadito come non sia possibile fare guerre in nome di Dio e che in questo momento l'Europa abbia bisogno di veri leader che siano in grado di impegnarsi contro i conflitti. Riguardo l'Anno Santo, appena concluso, Bergoglio l'ha definito un'idea venuta dall'alto ed ispirata dal Signore, ribadendo ancora una volta il valore della sinodalità della Chiesa. In chiusura invece un'esortazione ai sacerdoti a non avere vergogna della timidezza. La scorsa settimana il regista italiano-americano Martin Scorsese ha incontrato in Vaticano il Papa. In una intervista che ha rilasciato a CTV ha parlato del suo film Silence, ma anche della sua fede cattolica. Ascoltiamone un estratto. Sento di essere cresciuto in un ambiente molto duro. I miei genitori erano necessariamente religiosi. Venivano da una famiglia di contadini siciliani arrivati a New York senza aver studiato e il cui obiettivo nella vita era provvedere alla famiglia. E quindi quando io sono stato introdotto alla fede, ma veramente ad un altro livello, è stato in chiesa, nel Lower East Side, alla vecchia cattedrale di San Patrizio, la primissima cattedrale cattolica di New York. È lì che ho trovato questo messaggio di amore e compassione, responsabilità, obbligo. Da allora sono stato sempre ossessionato da temi come amore, compassione e fede. E la fede che ti traghetta al di là delle prove della vita. Perché onestamente l'ho vissuto per davvero. È tutto anche per oggi. Grazie per la vostra cortese attenzione. Buon proseguimento con i nostri programmi ed appuntamento a martedì. Grazie.